Io finché avrò l'undicesimo in Consiglio Comunale andrò avanti. Breve è coinciso il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, nel commentare gli ultimi accadimenti che hanno interessato l'amministrazione comunale, in particolare il suo partito di riferimento, ovvero il Partito Socialista Italiano. Il primo cittadino ha dunque commentato la fuoriuscita dei consiglieri Fiorella Bernardo e Stefano Lacosta. Aieta ha invitato i due esponenti della coalizione a porre fine alla patetica farsa che non ha nulla di politico. Le questioni sono personali, legittime, afferma il primo cittadino, ma bisogna capire quando è il tempo di tirare la corda e quando invece bisogna mollare. L'amministrazione comunale a riba di Toieta va avanti nel suo progetto elettorale amministrativo. La Giunta non trema e il Partito Socialista non si lascia intimorire, anzi è pronto per il nuovo corso. In Giunta ha un assessore e in consiglio ha un consigliere comunale che a questo punto diventerà capogruppo, Franco Pascarelli che è ex sindaco, ex amministratore anche della mia Giunta, ottimo amministratore, per cui noi andiamo avanti. Saltiamo il fosso e non ci facciamo sicuramente invischiare e infilare in questioni personali che non hanno nulla di politico e verso le quali questioni noi vogliamo stare lontani come siamo stati abituati in questi otto anni.